Rilassiamoci, in questo breve ma intenso momento vorrei approfittarne per avere un docile confronto, esporre una critica costruttiva, perché è giusto rapportarsi con l'altro in maniera civile ed educata, anche qualora l'altro fosse in errore. È giusto perdonarlo, capirlo, sentirlo, amarlo, aiutarlo e allora, ecco la mia critica. E basta no, e basta, ma chi sono sti cazzati? Per il mio casamento lo legge, ma che so voi?